Ciao a tutti ragazzi, sono in viaggio, sono dalle parti di Francoforte come potete vedere alla mia destra, siamo a fare una piccola vacanza nel sud della Germania e volevo salutarvi tutti intanto che sono in viaggio, soprattutto salutare una simpatica rosicona che ha fatto un messaggio del tipo, io non sono razzista ma e poi seguono tutta una caterva di insulti per tutte le razze del mondo, anche canine eccetera, ha fatto una cosa del genere però con un mio video, dicendo che sono molto migliorata con la qualità del mio video, ma i miei video sono, antiquati, scialbi e altri 15 aggettivi che neanche mi ricordo e poi a un certo punto mi fa, mi manca l'aggettivo, beh le ho usate tutti quelli dispregiativi tesoro, non credo che ce ne siano altri, vuoi usare altre lingue? Dopodiché mi fa, come Windows XP, mia paragonata a Windows XP e io gli ho detto, meno male che all'inizio del tuo simpatico discorso mi ha detto che non mi piace, sono quasi immotivati, dopodiché hai dato 5000 motivazioni agli altri per mettere non mi piace, sei un filino ipocrita, ma lei mi fa, ma io ho speso tempo per criticarti, sono critiche che non mi aiutano per un cazzo perché se tu mi dici metti quel colore al posto di quest'altro io lo so e miglioro, se tu mi dici 50 insulti ai miei lavori si capisce che rosi, chi sei invidiosa, rosicona, un bacio a tutti i rosiconi ed io vi ricordo che ancora la Germania non è un paradiso, mi dispiace doverlo dire, la Germania non è un paradiso, lo dicono pure i tedeschi, pensate voi, però se lo dicono loro va bene, se lo dico io sono una stronza, viva la coerenza amori!